zitto zitto Ventura è in zona playoff ma alla grande è vero che è schiacciata la zona playoff andiamo a leggere la classifica questo momento si installa a 32 in attesa che giochi domani il crotone che vincendo potrebbe non soltanto allungare rispetto alla saletitata ma superare addirittura vincendo il pordenone è vero che insomma la zona playoff come dicevo è molto schiacciata per cui io ci metterei dentro anche chi al momento è fuori come il Frosinone la Juve Stabia a 28 Lascoli Perugia a 27 mi azzarderei anche fino al Pisa che sta a 26 perché comunque lo sappiamo questo è un campionato dove fai due vittorie e ti ritrovi nel gruppone per quanto riguarda la partita di oggi non credo ci sia stata storia perché tolto il vantaggio peraltro molto bello da parte di Raul Assensio che segna un gol di testa meraviglioso da attaccante puro in volo di testa difficilissimo come diciamo torsione e spiazza anche il portiere per cui gol stupendo nulla da dire però la qualità del gioco della salernitana ha la meglio quando soprattutto arrivano al limite dell'area ci sta uno scambio tipo flipper forse l'azione più bella è quella che ha portato al tiro di Juric però anche una grande partita da parte di Gondo una grandissima partita da parte di Cristiano Lombardi come spesso gli accade che ha anche segnato con la colpevolezza assolutamente del portiere Perina perché forse ha visto la palla all'ultimo e la palla gli passa sotto al corpo se non ricordo male e poi anche sul gol di Akpakro non lo so un portiere così lungo dovrebbe coprire meglio il palo suo è stata una bella rasoiata per carità tutto quello che vuoi però insomma a mio avviso poteva fare qualcosa in più e il Cosenza tranne forse un'altra occasione nel secondo tempo ha fatto veramente troppo poco per impensere una salernitana che sta esprimendo un ottimo calcio e merita ampiamente la posizione di classifica che ha in questo momento